Sono Laura Antichi, vi presento Podbean, che è una specie di blog che raccoglie i podcast. Andiamo nella casella di ricerca di Google e cerchiamo e scriviamo Podbean. Ci colleghiamo al sito, la prima scelta è quella giusta, questa è l'interfaccia di Podbean e avete la possibilità qui di fare o il login oppure sign up free. Dovete comunque registrarvi, sign up free per farvi vedere, io sono già loggata. Qui potete loggarvi con Facebook, Google, con Apple oppure con il vostro indirizzo mail e poi fate I am not a robot. E create l'account. Dopo aver fatto questo vi loggerete, faccio logging, logging. E sono entrata nella dashboard di Podbean, che come vi ripeto, dicevo, è un'app da web e da mobile per raccogliere podcast. Nella dashboard trovate tutti gli episodi che avete, se li avete già messi o troverete quelli che avete già uploadato in Podbean. Andiamo in distribution e potete vedere che alla voce, andiamo a vedere le varie voci, il podcast website. E qui possiamo scegliere l'interfaccia del nostro podcast website. Quello che ci propone il current è questo, potete poi customizzare. E io lascio questo, poi avete dei temi pro, però ci sono anche dei temi free, potete scegliere altri temi. Io lascio quello di default, che mi piace molto, poi posso andare in customize, no, mi dice che il customize esiste soltanto per il pro, per chi ha il pro. Quindi lasciamo questo di default, poi andiamo in podcast app, e qui apps, e qui potete collegare il vostro podbean con i vari podcast apps, quindi attivandoli. Poi avete la social share, quindi potete condividere attivando con il più, con facebook, twitter, linkedin, youtube. E' interessante l'embeddable player, cioè potete scegliere il colore del player, potete anche cambiare il colore, vedete? Io l'avevo scelto verde, lo lascio verde, e la fonte, insomma tutte le informazioni che vi possono essere utili per il vostro podcast. Poi, quindi abbiamo visto la distribution, poi andiamo in setting, in setting in general. In general mettiamo un titolo del nostro podcast, io l'ho chiamato Paradigmi Educativi, una breve descrizione del podcast. Scegliete le categorie del podcast, vedete che ve le propone alcune, io ho scelto queste, è un Society and Cultural Personal Journals, e poi anche qui scegliete così la categoria, io ho scelto Scienze, le social scienze, poi in questo, a che cosa è rivolto, quindi ho scelto, beh posso anche scegliere Education, ecco, poi scegliete il logo, vi avevo già parlato precedentemente dell'importanza di scegliere un logo che sia significativo per il brand del vostro podcast, e qui potete select image, e andate a scegliere l'immagine dal vostro computer. Ci sono more options, quindi avete URL del vostro podcast, mettete qui il nome, ci sarà da mettere, ci sarà qui una casella per mettere il nome del vostro, o degli autori, potreste mettere gruppo di studio, oppure classe, quello che volete, poi la country, quindi Italy, e la time zone, Roma, vedete, e se volete che gli episodi, new e old, o viceversa, scegliete l'opzione che preferite, ecco, no, dice che questa non si può fare, perché è per il pro, e abbiamo poi lasciato, enable, i commenti, cioè abbiamo dato la possibilità di mettere i commenti, e andiamo a fare l'update delle options, andiamo ora a vedere sempre nella barra laterale sinistra e feed, e vi dice di mettere un sottotitolo, io ho messo una frase, poi un sommario, qui scriverete quello che credete opportuno, l'autore del podcast, potete mettere anche il gruppo di lavoro, il contatto mail, e poi il contenuto, lasciate, e il client false, perché l'altro è esplicito, no, il podcast, scegliete il podcast type, se episodic o serial, e la lingua italiana, queste sono opzioni che si ripetono anche qui, quindi, ti dice che puoi usare iTunes image tag, oppure user media content tag, not set, lasciamo così, e qui avete il link del URL, il numero degli episodi, il limite 20, poi, qui ti dice, se vuoi rimuovere dal, dall'Apple directory, eccetera, eccetera, update option, e quindi, abbiamo, praticamente, visto le opzioni del feed, andiamo in plugin, e qui vedete che, potete, vi da, la possibilità di importare, da, i vostri file, from, vediamo se lo da nel, nel free, si, da Dropbox, ecco, questo, vi da questa opportunità, ora, andiamo in Episodis, Episodis List, e a qui, se li avete uploadati, trovate tutti gli episodi del vostro podcast, andiamo ora, a creare, a inserire, un nuovo episodio, New Episodis, lo scegliamo dal nostro computer, choose file to upload, e vado, ad esempio, in una cartella, e scelgo costrutto, che è una lezione di psicologia, apri, quindi mi dice, fa il name, il title, devo mettere, il costrutto, in psicologia, come vedete, qui posso, descrivere l'episodio, una, lezione, di psicologia, posso anche inserire, un'immagine, scegliendo, dall'image, dovrei mettere la risorsa, o dall'image, list, vediamo, mettiamo una immagine, qualsiasi, che ho già, quindi, nella image, list, questa, la faccio un po' più piccola, invece di 6, la faccio 2, vedete che mi mantiene l'altezza, la larghezza, save, ho scelto, vabbè, un'immagine, qualsiasi, che avevo a disposizione, e quindi, sono pronta, per pubblicare, ah beh, andiamo in more episode setting, come al solito, season number, mettiamo 10, l'episode number, mettiamo 7, e poi full trailer, il summary, conoscere, non so, conoscere il costrutto, l'autore, la durata, e il termine lì, che lo, me lo darà, quindi vado in publish now, potrei anche, pubblicare dopo, no, schedule, epilode, è per il pro, quindi, mi rimane altro che fare il publish now, ecco, ecco, in questo modo, ho, quindi, scelto, ho potuto, quindi, uploadare il, il costrutto in psicologia, posso, poi, a questo punto, ho fatto anche un errore, quindi, costrutto in psicologia, una lezione di psicologia, e in paradigmi educativi, come vedete, quindi, ritorno al costrutto in psicologia, e, scelgo, posso anche scegliere il player, cambiare il player, la fonte, eccetera, posso condividere il tutto, posso condividere, quindi, il tutto nei social, facebook, twitter, eccetera, eccetera, ho il, da un, l'indirizzo per caricarlo, ho l'indirizzo del, di questo episodio, ho, poi, la, il link per la condivisione, che posso copiare, andando in episode list, me lo ritrovo, come vedete, che mi dice, vedi l'episodio, share the embed, e su, e se clicco su, publish it, posso, vederlo, e andare, a correggere, ad esempio, alcune cose, avevo messo, il, il, in, cambio, metto, in, psicologia, così vi faccio vedere, così, i cambiamenti che ho fatto, ok, e, poi, gli altri, le altre informazioni andavano bene, quindi, faccio di nuovo l'update, ok, vedete, che adesso, ehm, l'episodio, ehm, è stato pubblicato, ehm, esattamente, ecco, posso, ehm, quindi, ehm, collegarlo al podcast apps, ehm, fare il download, e condividerlo, questo episodio. Vado ora nel blog Paragrini educativi, e, come vedete, trovo il mio, il mio episodio. La teoria dei costrutti personali secondo Kelly. Ecco, quindi ho, ehm, ehm, fatto, ho uploadato il mio, ehm, episodio. Ora, però, per quanto riguarda questo episodio, voglio chiamare, ehm, cambiare l'immagine. Quindi vado, costrutto in psicologia, episode, e nella parte, alla mia destra, ehm, vedete che ho l'immagine, i paradigmi educativi, io scelgo, voglio scegliere, è una nuova immagine, che non sia quella del logo brand del sito. Quindi, choose new, vado nel mio computer a scegliere un'altra immagine significativa. Sono andata nella mia cartella immagini, e scelgo una immagine, ad esempio questa. apri, mi dice, ehm, ehm, di, ehm, posso anche, ecco, modificarlo un po', posso anche, al tornare indietro, con skip and upload, faccio in continuo, mi dice, come la voglio immettere, in mezzo, e quindi il testo in mezzo, costrutto in psicologia, update. Vedete, però, ehm, è venuto, ho scelto il colore, ehm, scelgo, il colore nero, vabbè, lasciamolo nero, potevo cambiare comunque il, il colore, per identificare la risorsa. Vado a questo punto, a, update. Ok, e vedete che mi ha, è cambiato l'immagine, è costrutto in psicologia. Vado in paradigmi educativi, e mi ritrovo all'icona del, di questo episodio, costrutto in psicologia. Dopo toglierò questa immagine, perché se no è pieno di immagini, quindi vado in play. La teoria dei costrutti personali, secondo Kelly, si ha un approccio costrutivista. Ci sono delle differenze individuali, che dipendono dai costrutti? Ecco, ho, eh, quindi questa lezione di psicologia, e sono soddisfatta, e, eh, insieme a tutti gli altri, eh, file che avevo, eh, quindi, episodi che avevo già messo, sul sito. Vi ricordo, comunque, che, ah, i file vanno preparati, e vi consiglio di utilizzare Odacity, per prepararli, che abbiano un sottofondo musicale. Arrivederci!